bella bella tutti ragazzi bella 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 e fare e fare e fare e fare e l'anno che è altro grazie grazie a tutti ragazzi con il vostro video oggi ragazzi siamo su no 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 vai cadare no vai cadare no 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 grazie 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 no grazie mi faccio vedere da allora sto registrando questo questo è un bel angelo non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.